Venerdì sera, ore 21 e 30, collaborazione con Viratop Italia e ragazzi del BIM Paranormale Certo, se sei qui, puoi anche manifestarti con un rumore Sì, devo aver paura, vai, tu grida il mio nome Fagli vedere all'uomo mascherato, arriva fino al rosso per favore Non è un'interferenza, il mio nome brida, il suo sì Arriva fino al rosso per favore Infatti la telecamera sta facendo fatica a riprendere ragazzi Sta facendo fatica a riprendere la telecamera, guarda Non ti racconto che se li guarda Io forse qualcosa l'ho preso, però non lo so Perché? Perché te la stai prendendo con la telecamera? Stai comunicando con mister, possiamo dirlo? Sì Mister Virat Cosa gli vuoi dire? Vedi che con me non parla Sì, sì Se prendiamo uno strumento Per fare una metafonia Ti va di farci sentire la tua voce? Ci sta seguendo Tu la sei Guarda State vedendo? Sì, è un risultato da me Ok Nel senso, seguici al pianoforte Solo lì hai il permesso Di farlo Non è il mio Vanno no No Las venti Las venti Las venti Del partito west Tu hai visto? Sì 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 Sì